Devo dire che il nostro moderatore ha reso il quadro complesso ancora più complesso perché gli argomenti che sono entrati nel corso di questa mattinata sono anche tanti e di più per cui cercherò di riportare a un filo di collegamento tutti gli stipoli che si sono sommati in queste ore di dibattito. Partendo però se mi è possibile proprio dall'intervento finale del nostro Ministro che è stato invitato qui non a caso. Noi abbiamo con il Ministero delle attività, i beni artistici e delle attività culturali e con la Federazione dei Cavalieri del Lavoro una lunga storia di relazioni e di collaborazioni e abbiamo iniziato a lavorare sul rapporto tra il mondo dell'arte, della cultura, il Ministero e sovrintendenze, il sistema delle imprese e il sistema dei Cavalieri del Lavoro per una serie di ragioni. Innanzitutto perché abbiamo oltre un centinaio di fondazioni che fanno capo a Cavalieri del Lavoro che sono impegnati in maniera attiva sulla promozione e la protezione dei beni artistici e culturali. In secondo luogo perché abbiamo individuato nella logica del mecenatismo e nel contributo dei privati alla valorizzazione e alla protezione del patrimonio artistico-culturale un elemento di forza del sistema Paese, individuando però anche dei punti di caduta sui quali ancora oggi dobbiamo trovare delle risposte, la più importante delle quali è se il mecenate investe per valorizzare, proteggere e recuperare un bene artistico-culturale, chi garantisce che poi quel livello di investimento venga poi protetto con un'adeguata tutela nel tempo? Perché abbiamo visto molte volte investimenti che sono stati poi dilapidati dalla carenza di chi poi era tenuto a tutelare e conservare quel bene per cui questo naturalmente ha reso poi impossibile il vero rilancio del mecenatismo come abbiamo invece visto accadere in altri Paesi e come pure sarebbe possibile che accadesse nel nostro. Quindi noi siamo ben desiderosi e pronti a riprendere anche con questa amministrazione un percorso che aveva registrato dei passi in avanti importanti anche nella precedente area di governo perché i temi sono importanti, sono vicini al mondo dei cavalieri del lavoro per tante ragioni, innanzitutto culturali ma non solo culturali. C'è anche un tema fondamentale di competitività e di valorizzazione del patrimonio non solo artistico e culturale del Paese ma anche industriale del nostro sistema Paese. E vorrei ricordare che noi circa un anno, un anno e mezzo fa promuovemmo nel corso del convegno credo di Firenze quello studio fatto insieme con la Boston Consulting nella quale si evidenziava in maniera molto chiara quale fosse l'impatto anche economico della reputazione e della credibilità del Paese sul valore aggiunto del Made in Italy. E non dimentichiamo che anche nei settori nei quali l'Italia ha una posizione di leadership indiscussa dal punto di vista della qualità e anche della quota di mercato, nicchie per esempio nella tecnologia e nella meccanica fine, nicchie importanti nel settore del design, del lusso, della moda, dell'alimentare. Noi scontiamo comunque rispetto ad altri sistemi Paese proprio per un deficit di credibilità e di reputazione un 15-20% di price positioning che su quei fatturati vuol dire miliardi di euro l'anno che noi perdiamo come Paese, come sistema delle imprese, come capacità di fare investimenti, come gettito fiscale, come capacità di remunerare meglio le nostre professionalità. Quindi il lusso nel mondo nonostante la grande qualità del Made in Italy è Made in Francia. E l'alimentare nel mondo, ancora una volta, è più Made in France che non Made in Italy, perché non c'è vino italiano che possa essere venduto al prezzo di una media bottiglia francese, pur avendo la nostra qualità sicuramente niente da invidiare, anzi è il contrario, e così vale per tante altre cose che noi produciamo in questo Paese. Per non parlare naturalmente della tecnologia che poi è un settore che tutti sottovalutano quando parlano del Made in Italy, ma non dimentichiamo che questo è un Paese che esporta moltissima tecnologia di grande qualità, ma Made in Germany o Made in Swiss fanno 15-20% di prezzo in più. E questo vuol dire che noi dobbiamo ridare alla credibilità e alla reputazione del Paese un'attenzione molto più importante, molto più sistemica, con un punto centrale del rilancio della capacità complessiva di competere. E in gran parte da che cosa dipende la reputazione e la credibilità del Paese. Dipende dal modo in cui noi interagiamo sul livello internazionale, dal modo in cui facciamo diplomazia economica, dal modo in cui governiamo noi stessi, cose di cui parlerò dopo, ma dipende anche dal modo in cui noi governiamo e trattiamo le nostre città, il nostro patrimonio artistico, ambientale, culturale. Abbiamo più del 70% di quello che conta nel mondo a casa nostra e lo trattiamo nel modo peggiore possibile. Ed è da qua che abbiamo iniziato questo ragionamento dicendo che valorizzare il patrimonio artistico e culturale del nostro Paese, che vuol dire proteggerlo innanzitutto e poi valorizzarlo per continuare a investire su questo patrimonio, rappresenta una imprescindibile necessità se vogliamo davvero recuperare credibilità. Che immagine diamo ai nostri clienti che vengono da tutto il mondo a visitare le nostre città vedendo quanto sono sporche, quanto sono disastrate, come tuteliamo i nostri beni culturali che magari fanno fila per vedere e magari non riescono a vedere perché i musei sono chiusi e quando le vedono non sono nelle condizioni in cui dovrebbero essere. Tutto questo noi lo paghiamo per venire ai soldi, per venire alla mila materia in termini di price positioning, in termini di gettito fiscale e di revenue per le nostre imprese in termini di miliardi di euro l'anno. E allora c'è un valore economico molto importante nel modo in cui noi governiamo i nostri beni artistici e culturali. Io sono d'accordo con quasi tutto quello per quanto riguarda i beni artistici e culturali, ha detto il nostro Ministro. Sicuramente per chi ha avuto a che fare con le sovrintendenze sa, e io iniziai questo percorso quando ero Presidente di Confindustria e allora era Ministro Giuliano Urbani con Sgarbi e qualche nostro sovrintendente, cominciamo a fare dei ragionamenti proprio su questi temi allora, sa che è il terreno più accidentato, più infido, più complesso, più conflittuale d'Italia. Se pensiamo alla pubblica amministrazione come un luogo terribile, quello è il più difficile di tutti. Quindi una riforma su quel piano è veramente indispensabile. Peraltro è un'area nella quale dobbiamo riprendere e investire perché il tema fondamentale sul quale noi ci misuriamo è qual è la prossima generazione, prossima vuol dire prossima, generazione di curatori e sovrintendenti che noi abbiamo, se sono anni che non investiamo su questo settore. Chi si occupa di questo patrimonio se addirittura arriviamo a discutere se la storia dell'arte debba essere insegnata o meno nei nostri licei? Allora, se un Paese come il nostro si pone queste domande e continua a registrare queste retratezze, abbiamo veramente problemi seri davanti a noi. Quindi buon lavoro Ministro, noi siamo ben contenti di collaborare e di continuare a collaborare anche perché l'intervento del privato a sostegno dell'iniziativa pubblica con il governo e con la guida del pubblico naturalmente è assolutamente fondamentale. Quindi i Cavalieri del Lavoro lo hanno fatto nel passato, lo faranno oggi, lo faranno sempre nel futuro chiunque sia al governo perché è un dovere che noi avvertiamo dal punto di vista innanzitutto civile e sociale e poi naturalmente una esigenza dal punto di vista imprenditoriale. Quindi il tema della cultura come un asset competitivo sul quale fare leva è un tema che ci è proprio, ci è caro, anche perché noi siamo convinti che il patrimonio di cui noi disponiamo, che non abbiamo fatto noi, hanno fatto i nostri avi, rappresenta al tempo stesso una grande responsabilità perché lo dobbiamo saper tutelare e proteggere, è una grandissima opportunità perché è da lì che noi possiamo trarre nuova linfa e nuovo beneficio per continuare a essere un sistema che innova e che compete sul bello perché il bello è qualche cosa che non si compra e non si studia, è qualche cosa che fa parte della nostra cultura e dei nostri geni ed è rappresentato alla stratificazione che noi abbiamo alle nostre spalle ma che naturalmente non può essere un patrimonio finito. Noi stessi abbiamo la responsabilità di dover continuare ad investire e creare altro patrimonio. Ciascuno di noi quando entra in azienda dice bene dove voglio portare questa azienda? Diciamoci dove vogliamo portare questo Paese? Vogliamo portare questo Paese ai vertici nella competizione mondiale sul bello, sulla qualità, sull'innovazione, sull'intelligenza, sulla capacità di creare un sistema che sia dal punto di vista sociale e dal punto di vista civile un sistema che sia all'altezza di quello che la nostra storia ha rappresentato per l'umanità. Lo possiamo fare, io penso che noi lo possiamo fare, siamo un Paese tutto sommato piccolo, invidiato da tutti, tutti vorrebbero mangiare italiano, tutti vorrebbero trascorrere le loro vacanze in Italia, tutti vorrebbero sposarsi in Italia, tutti vorrebbero ritirarsi in Italia, tutti vorrebbero vestire italiano, tutti vorrebbero guidare le automobili italiane, se sono le Ferrari perché se sono le altre bisogna ancora vedere, sicuramente con i freni di Bomba 6 perché quelli sicuramente funzionano. Quindi siamo un Paese che tutti invidiano e tutti vorrebbero ma siamo un Paese che da decenni non investe più su se stesso, che è una condizione di abbandono ambientale e di pericolosità dal punto di vista ideologico assolutamente carente. Siamo un Paese le cui città devono essere assolutamente riqualificate e bonificate, cosa che è possibile fare rimettendo in moto un circuito per scusso come dimostra Matera. Come dicevamo questa mattina, Matera era ricordata nei nostri libri di scuola come il segno del degrado del Paese e oggi rappresenta invece un esempio positivo di come una riqualificazione pur difficile e complessa possa invertire il senso di marcia e riaprire un discorso diverso. Quindi noi sicuramente possiamo farcela, però dobbiamo intenderci su quello che vuol dire competere, perché per noi imprenditori, questo è molto semplice. Noi nasciamo con l'angoscia di fallire, noi sappiamo che competo ergo sum, esisto in quanto sono capace di competere. Se non sono capace di competere sono destinato a morire e la competizione oggi è una competizione molto più violenta, molto più dura che non fa più prigionieri. Non ci sono più nicchie, cespugli, piccoli aggrovigliati dietro i quali rascondersi. La competizione è assoluta. Da anni, da decenni, lo ricordavamo anche questa mattina, molti di noi hanno contestato la logica del cespuglio, del piccolo e bello della capacità italiana di fare queste robe, rendendosi conto che la dimensione e la direzione nella quale andavamo era esattamente questa. Per cui anche il linguaggio con il quale noi oggi parliamo, anche il dibattito fatto sulla Cina in queste ultime settimane, registra un'assoluta distonia rispetto a quella che è la nuova dimensione della competizione. Qualche decennio fa si diceva che competono i territori, competono le macroregioni, competono i paesi. Non è più vero. Nel senso che competono sicuramente i territori, le regioni, i paesi, ma competono soprattutto i continenti. Oggi la dimensione minima della competizione è continentale. Per cui quando si approccia un discorso come quello della Cina e si pensa che, così come il continente americano dice America first, noi possiamo dire anche Italia first, noi abbiamo un calo secco di credibilità e di reputazione, innanzitutto all'interno del paese e poi, scusate, agli occhi del mondo. Allora, come non sapere e come non capire che la Cina ha una visione imperialistica ed egemonica. Rappresenta da 20 anni il concorrente numero uno del mondo occidentale, che ha fatto della concorrenza sleale il suo elemento fondamentale, il suo elemento fondamentale per cui, lavorando sul dumping ambientale, sul dumping sociale, ha continuato a erodere quote di mercato significative ai nostri sistemi paese. Certo, rappresentano un'opportunità per chi riesce a posizionarsi su settori e su segmenti nei quali magari l'unicità, e questo vale per alcuni paesi del Made in Italy, possa rappresentare un elemento distintivo, ma attenzione, qui abbiamo dei problemi colossali. Protezione dei marchi, protezione del Made in Italy, protezione dei diritti brevettuali della proprietà intellettuale, sui quali registriamo dei deficit colossali dal punto di vista di paese e dal punto di vista di Europa. E al tempo stesso, se il dumping sociale è una strada che tutti i paesi nel mondo, nella storia dello sviluppo proprio, hanno affrontato, ma lo hanno poi corretto perché la democrazia di cui i paesi consentiva ai movimenti sindacali di riequilibrare le distorsioni di una prima fase di dumping sociale, in un paese d'assenza di democrazie, nei quali i carri armati nelle province continuano a esistere, il riequilibrio nel medio-lungo periodo dal punto di vista del dumping sociale non c'è e non ci sarà. Allora, se noi non immaginiamo qual è la nuova dimensione della competizione internazionale, perdiamo completamente il senso di riferimento. Gli Stati Uniti oggi stanno facendo una politica assolutamente miope e di breve periodo. Hanno bisogno di riequilibrare un sistema manifatturiero che nei decenni scorsi, approfittando naturalmente delle distorsioni del cambio, ha outsourzato completamente la produzione ai paesi in via di sviluppo, trasformando il proprio centro medio in un centro di, come dire, banconisti di fast food o di retailers, quindi a basso livello di salario, per cui abbiamo visto che la compressione del centro medio ha determinato la spinta che poi ha riportato Trump al successo elettorale. Dal punto di vista degli americani riequilibrare il peso manifatturiero è una necessità indispensabile. Trump è in giro per il mondo a dire venite a investire qui. Quando noi abbiamo aperto il nostro stabilimento negli Stati Uniti, il governatore dello stato del Wisconsin ha preso un aereo ed è venuto in Italia a parlare con noi dicendo perché non investi nel Wisconsin e vuoi andare in Pennsylvania? Ci ha convinto e siamo andati nel Wisconsin. Ma il governatore del Wisconsin è venuto in Italia apposta per fare il caso del Wisconsin con noi. Ognuno di noi investe in Italia e investi in altri paesi. L'attenzione che noi certamente abbiamo dai nostri governatori di qualunque parte d'Italia non è assolutamente comparabile alla corsa, alla trazione di investimenti che stanno facendo lì in quel paese. Allora l'America ha un'agenda, riequilibrare la capacità manifatturiera del paese che si era completamente deindustrializzato. La Cina ha un'altra agenda, industrializzarsi per conquistare quote di mercato e soprattutto per mettere il sistema globale sotto il governo della Cina. L'Africa è stata già comprata, che è il nostro mercato e il nostro punto di riferimento è già stata comprata. Adesso c'è l'Europa. Allora, se questa è la dimensione del confronto con un continente come quello della Cina, certo non possiamo non dialogare, certo non possiamo non commerciare, perché il commercio è la prima garanzia per la pace e per la stabilità, ma certo non possiamo essere così stupidi da continuare a offrirci invece che aprirci. C'è una differenza fondamentale fra essere un mercato aperto e un mercato offerto. Noi siamo per i mercati aperti, ma con regole di fair trade e naturalmente di fair competition. Essere offerti vuol dire venite, fate quello che volete e se nel frattempo ci trattate lo schifo va bene lo stesso. Questo non funziona. E noi abbiamo già visto gli errori che la comunità europea ha fatto nel passato. Siamo tutti qui convinti che la responsabilità sociale sia un valore fondamentale. Siamo tutti convinti che la sostenibilità ambientale sia irrinunciabile per fare un'impresa che possa avere successo in futuro. Quindi non credo che sia da spendere un secondo in più su questo tema, ma aver iperregolamentato in materia ambientale in Europa consentendo poi alle imprese europee e in particolare ad alcune imprese chimiche europee a spostarsi a un metro dal confine dell'Europa per poi riesportare liberamente quei prodotti che non potevano produrre in Europa. Ha distrutto interi settori della chimica in Europa. ha creato una concorrenza sleale straordinaria e non ha assolutamente messo sotto controllo il tema della salvaguardia ambientale che è evidentemente un tema globale per cui non è detto che io possa essere pulito qui se il mio confinante inquina come inquinavo io un metro da qua del confine. La dimensione di questi problemi quindi è continentale e in una dimensione continentale di problemi come questi noi abbiamo bisogno di una svolta fondamentale sul piano con il quale noi affrontiamo sia le scelte di politica economica e industriale sia le stesse scelte di costruzione della nuova Europa. Siamo alla vigilia delle elezioni europee. Mai come ora noi abbiamo bisogno di avere un'Europa più forte, più unita, più coesa, capace di essere un soggetto politico oltre che un soggetto economico. Se noi non capiamo questo non abbiamo nessuna possibilità di garantirci né pace né benessere le prosperità perché sul piano industriale la competizione è quella, continentale, anzi intercontinentale e sul piano della stabilità e del governo delle grandi dinamiche anche di pace e di diplomazia internazionale quella è la dimensione minima nella quale noi possiamo stare. Ma per stare in quella dimensione e qui ritorniamo al tema della credibilità e della reputazione noi abbiamo bisogno di avere da questo punto di vista una consistenza di linea di proiezione e di orientamento. Ora la stabilità della legislatura è da sempre stato un grande desiderio sicuramente del sistema delle imprese perché nessuno imprenditore è così stupido da volere un paese instabile in nessuna parte del mondo. Ma la stabilità della legislatura è la condizione necessaria ma non sufficiente perché le cose si facciano. Occorre che si sia stabili ma occorre che poi le cose si facciano. Allora io vorrei ricordare che nel corso degli ultimi vent'anni questo paese ha avuto almeno quattro occasioni di grandissimo cambiamento sprecate in gran parte o del tutto. 2001 governo Berlusconi, 2008 secondo governo Berlusconi, governo Monti e per una certa fila strada di tempo governo Rinzi. Quattro volte in vent'anni questi governi avevano la possibilità o per maggioranze parlamentari o per ciclo di congiunzioni astrali di fare riforme radicali in tempi brevi. La riforma delle pensioni fatta da Monti è durata una mattinata. Negli anni precedenti abbiamo speso anni per fare una riforma delle pensioni. Quindi momenti straordinari in cui si poteva cambiare il paese. La stabilità della legislatura è fondamentale per garantire la tenuta, l'orizzonte e la fermezza di una politica del tempo senza delle quali è difficile fare riforme segni e importanti. Però le riforme non bisogna farle. Le riforme non bisogna farle. Allora quando noi diciamo le politiche neochenesiane in un paese che ha bisogno disperatamente di investire sulle proprie capacità di riqualificazione urbana, di bonifica ambientale, di risanamento idrogeologico, di collegamento con i mercati con i quali noi dobbiamo confrontarci, le politiche neochenesiane sono esattamente all'opposto di quello che noi stiamo vedendo. Io non voglio mancare di rispetto al nostro ministro che ci ha dato la cortesia di venire qui e del quale condivido moltissime delle cose che ha detto sul suo ministero. Però non posso non dire che queste non sono politiche neochenesiane, queste sono politiche paleossistenziali. Perché non si è visto, questo povero Keynes si sta rimottando nella tonda. Ma pensare di fare il reddito di cittadinanza vuol dire contribuire a un millimetro in più di infrastrutture? E quanto lavoro in più ne creeremmo se mettessimo veramente mano alle infrastrutture? Scusate, è sul piano della credibilità internazionale. Ma che figura noi faremmo se domani mattina magari ci fosse un cambiamento di governo e arriva qualcuno che straccia il contratto fatto con la Cina dicendo non serve più? Perché noi un contratto con la Francia l'abbiamo fatto, un contratto con l'Europa noi l'abbiamo fatto e quindi non possiamo oggi dire stracciavo perché non serve più. Peraltro quello non è un tema del Piemonte. Così come il mezzogiorno non è un tema del mezzogiorno, sono entrambi i temi del Paese. Noi abbiamo bisogno di collegarci con i mercati con i quali noi operiamo, altrimenti siamo tagliati completamente fuori e non abbiamo nessuna possibilità di competere. Allora, noi siamo ben contenti della stabilità. Non è il nostro ruolo, è il nostro compito esprimere come dire valutazioni politiche, ma è il nostro dovere esprimere valutazioni sulla coerenza delle politiche industriali. E questa parola politica industriale che evoca fantasmi del passato, che non è la politica di intervenire come dire nei settori, ma sicuramente quella di fare i fattori con i quali noi possiamo competere, sono politiche che vanno in qualche modo riscoperte e ridefinite, anche con un quadro di coerenza sul piano delle scelte di politica economica. Che il mondo andasse verso una fase di rallentamento lo sapevamo da tempo, non avevamo bisogno di aspettare che questo accadesse. Che la capacità del nostro Paese di non crescere, anzi l'incapacità a reggere il passo degli altri Paesi del Paese, lo abbiamo visto e lo sapevamo da tempo. Oggi quando noi competiamo a livello internazionale, le dinamiche inflattive devono essere offettate, cancellate, dalle capacità di crescita delle imprese. Se le imprese non crescono non c'è possibilità di cancellare questi costi, perdiamo quote e se le quote le perdono le imprese, le perde il Paese e quindi noi ci stiamo avviluppando. Allora noi abbiamo bisogno di riscoprire una forte capacità di riprendere le riforme sociali. Le riforme del mercato del lavoro, ancora incompiute, non possono tornare indietro, devono andare in avanti. Noi dobbiamo rendere il mercato del lavoro libero, dobbiamo rendere i nostri lavoratori capaci di saper promuovere se stessi, imprenditori di se stessi, perché dispongono di un bagaglio di cultura e di professionalità adeguato per poter difendere se stessi. Queste sono le moderne società industriali nelle quali dobbiamo competere. Noi non siamo un Paese che ha un deficit di diritti del lavoro, siamo al contrario, un Paese che ha un deficit di libertà di lavoro. È un passo in avanti che dobbiamo assolutamente compiere, continuando a investire sulla formazione, continuando a investire sull'università, continuando a investire sul nostro patrimonio artistico-culturale. Noi dobbiamo riprendere e investire infrastrutture che pensano e infrastrutture che pesano. La rivoluzione dell'industria 4.0 ha avuto il grande vantaggio di aprire agli occhi anche dei cittadini quello che le imprese già sapevano. Le fabbriche devono diventare sempre di più fabbriche intelligenti. Il lavoro fisico è destinato a ridursi sempre di più nelle fabbriche intelligenti e a me è piaciuto molto l'apertura del Ministro invece sulla riscoperta dei mestieri. Perché se le fabbriche e il lavoro che compete nel mondo deve avere sempre di più intelligenza e meno lavoro fisico, noi dobbiamo sapere riscoprire anche quella dimensione dei mestieri che accompagna in maniera significativa la capacità di restaurare, la capacità di disegnare, la capacità di riconfigurare che ha alimentato anche moltissimo del nostro Made in Italy. Allora se uno viaggia nel mondo e vede ad esempio come un museo che è una bellissima collezione, ma è una collezione per niente comparabile con i nostri musei, il Polghetti ha creato non dei suoi beni esposti ma nella sua capacità di fare ricerca, restauro e studi storici culturali il suo punto di forza a livello mondiale per cui anche il MAN, il più grande museo archeologico del mondo, il nostro a Napoli, lavora con il Polghetti perché loro hanno capacità di ricerca e di restauro che noi non abbiamo più. Allora se noi abbiamo la voglia e la forza di reinvestire su questi settori, qui noi recuperiamo una capacità di essere intelligenti molto più di quanto non siamo stati fino ad oggi e anche questo può essere fatto in una logica più innovativa perché non sono solo lettere antiche, restauro e archeologia ma è anche genetica ad esempio che viene messa insieme a queste robe. Allora se creiamo intorno ai nostri grandi bacini e patrimoni culturali anche un incubatore che mette insieme le diverse competenze scientifiche e di ricerca sull'antico e sul futuro, noi valorizziamo quello che è il nostro unicum assoluto, il nostro patrimonio di cultura, il nostro patrimonio di conoscenza che è il modo vero con il quale proteggiamo e difendiamo la nostra Italia. Grazie mille, grazie a Matera, grazie a tutti quanti voi.